Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Il corpo senza vita di Fabio Ferrari, il 55enne runner di cui si erano perse le tracce domenica mattina a Bovegno, nel Bresciano, è stato ritrovato. La vittima si era avventurata lungo un sentiero e il suo corpo è stato individuato in fondo a un canalone, indicando una caduta nel vuoto di circa 100 metri. Questo rappresenta il terzo tragico incidente mortale di escursionisti in montagna nell'arco di pochi giorni nella provincia di Brescia. Sabato scorso, in due diverse zone della provincia, avevano perso la vita per incidenti in montagna Sergio Bologna, 44 anni, e Adriano Vergoglio, 54 anni, per i quali oggi si sono svolti i funerali. Ferrari è stato avvistato per l'ultima volta da altri escursionisti domenica mattina, tra le 11.30 e mezzogiorno, lungo il sentiero sotto il Monte Muffetto nella zona di Bovegno. La moglie ha lanciato l'allarme domenica sera quando il telefono dell'uomo ha smesso di dare segnali. Le ricerche hanno portato al ritrovamento del corpo in fondo al canalone, confermando la tragica caduta. Ferrari, ingegnere di 55 anni di provaglio di Iseo, aveva parcheggiato l'auto a Bovegno alle 10.30 di domenica e si era allontanato per allenarsi. Essendo un appassionato e esperto runner di montagna.